Carissimi amici della Pognotomia, buongiorno, sono qui per darvi un annuncio, un annuncio che forse erano tanti anni che avevo dovuto dare, ma che per mille motivi, e proprio per cercare di trovare il meglio, arriva oggi. In collaborazione con l'amico Dono Cigniello di Extra Cosmesi, sta per uscire il primo set degli amici della Pognotomia. Vedrete in sovraimpressione le immagini del set che si chiama Victorian. Victorian è un chiaro riferimento anche nei colori del packaging che abbiamo scelto all'Inghilterra vittoriana perché la traduzione è tipicamente british. Ora, io non saprei scrivervela, io non saprei dirvi con le mie parole cosa annuserete, ma è una cosa che io la trovo veramente eccezionale ed è veramente british. Quindi a chi piacciono i propri inglesi questo è il suo. Tanto che mi spiace addirittura che sia iniziale limitata perché è veramente buono. Cosa dire? Perché tanto il tempo? Perché noi, io, Luca Esposito e Montini, non abbiamo voluto fare delle cose a caso. Abbiamo voluto aspettare di trovare una fragranza, di individuare, di concordare una fragranza che ci piacesse davvero, che rappresentasse davvero il nostro modo di essere, i nostri gusti, che sono molto simili in questo caso. E quindi ci sono voluti anni di discussioni. Ma lo facciamo? Non lo facciamo? Con chi lo facciamo? Come lo facciamo? Poi l'amicizia con Donato, la qualità eccellente che io trovo dei suoi prodotti, come ho sempre detto in video, la seconda nuova formula, insomma, è veramente eccezionale. Vedrete sulle immagini che scorreranno su questo video anche quanta roba c'è nel sapone, roba nel senso di oli, burri, la qualità del profumo che strizza l'occhio, per non dire di più, alla profumeria di nicchia. Ecco, perché il set è composto da sapone, non era sapone, dal aftershave o duolette e dal fluido balsamico per deconditionare la pelle dopo la trattura prima dell'applicazione del profumo. Ora, Victorian quindi uscirà a breve, ma inizio limitata. Inizio limitata che però noi abbiamo voluto, abbiamo voluto, e qui ringrazio Donato perché ha accettato con entusiasmo questa nostra proposta che, se vogliamo, è nuova. Abbiamo voluto dire ma non è giusto che chi magari non può in quel momento, poi magari non capita, ma chi magari non può essere lì ad aspettare il giorno dell'uscita che sarà domani, per dire, o domodomani, ma in realtà noi abbiamo spostato, noi diamo una settimana di tempo, se vi fico bene, non è giusto che chi magari ha un tempino di lavoro, una telefonata importante, un'urgenza familiare, perda il set. Allora abbiamo detto, siccome gli amici dell'eroponotomia sono veramente i nostri amici, e siccome noi vogliamo che chi ha piacere di averne una edizione possa averla, diamo una settimana per preordinare il set. Lo farete, se vorrete, ovviamente, chiaramente, sul sito di Essere Cosmesi appariranno in sovrimpressione tutti i vari riferimenti, già da oggi o da domani sarà online la possibilità di preordinarlo, e la settimana prossima, esattamente, la settimana prossima, verrà annunciato il giorno in cui verrà, come dire, venduto e lanciato, quindi si potrà acquistare sul sito di Essere Cosmesi e nella sua, nella botteglia di Norociniello. Ora, questo è stato fatto per evitare, da un lato, odiose speculazioni, capite cosa sto dicendo, dall'altro, per dare la possibilità a tutti di avere, ovviamente se lo si vuole, un'edizione del nostro Victorian. Con questo, spero che vi avrei fatto una bella sorpresa, ero un po' nell'aria, vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio a tutti, un buon abbraccio a tutti. Allora, raga, buonasera, dopo cinque anni dalla nascita del canale YouTube Amici della Popomotomia e della pagina Facebook, finalmente, dopo tante prove, tanti dubbi, abbiamo sfornato questa eccellenza. Profumo incredibile, non sto qua a pubblicizzare una cosa che a me piace, ma oggettivamente piace perché è molto elegante. E' English style e, sinceramente, è un must have. Un must have perché piace pure alle donne, c'è un profumo che, ragazzi, ho fatto tanti test, condonato, mi hanno dato tanti campioncini per farlo, abbiamo lavorato duro. Oltre a confrontarmi con Marco e Luca, non è stato così semplice ad ottenere un risultato così importante. Mi vedete così perché sono andato a giocare a calcetto, solo che il sapone, il set, è in uscita e non ho altro tempo per farlo. Niente, io spero che vi piaccia, voglio i vostri feedback, vi auguro tante belle sbarbate, spero che sia il primo sapone di una lunga serie. Buona serata, viva gli Amici della Popomotomia! Buongiorno, sono Luca, degli Amici della Popomotomia. Io sono qui a fare il mio primo e, probabilmente, ultimo video su richiesta di Marco perché presto uscirà il nostro nuovo sapone. E quindi, prima di radiami alle 6.30 al mattino, volevo anche io comunicarvelo e farvi capire che per me è una tappa estremamente importante. ne abbiamo discusso molto e per anni, veramente per anni e finalmente abbiamo trovato la quadra perché la nostra pregiudiziale era una ben determinata profumazione stile inglese e un produttore è riuscito a farcela, a crearla. Ma il naso di Rocco Contini ha dato l'assenso e quindi se Rocco dice sì, per me è assolutamente una cosa spettacolare perché sappiamo tutti come sia avile Rocco nel riconoscere profumazioni come quanto si intende, quindi se lui dice che ci siamo, ovviamente abbiamo raggiunto l'obiettivo. E ora non ci resta che aspettare che esca, non ci resta che veramente vedere la vera recensione che farà Marco, sarà sicuramente più attento e più preciso di me. Io saluto tutti quanti e ringrazio coloro che vorranno prendere, ma non per una questione di affezione al canale, perché come sapete, ma come dice sempre Marco, noi non è che abbiamo scopi di lucro su questo canale, quindi noi non ci guadagneremo niente su questo sapone, non ci spenderemo neanche niente e non è il nostro lavoro, però a livello affettivo siamo contenti di cedere il nostro, tra virgolette, band per un prodotto che rispecchia quanto avevamo richiesto. Quindi non ci resta che aspettare che esca e auguro tutti buona giornata, buona rasatura, io qui ho i miei prodotti di oggi, li ho presi, li ho scelti tutti inglesi, non a caso, visto che il profumo del sapone sarà spiccatamente inglese, non c'entra niente con questi prodotti qui come profumazione, però almeno sono voluto rimanere un po' in tema. Sappiate che io sono veramente, lo ripeto, sono veramente contento perché era una profumazione che cercavo e che non c'era nessuno ancora, nessuno ancora nessuno aveva prodotto e quindi non ci resta che aspettare che esca, che non ci resta aspettare soprattutto la recensione di Marco, vedrete che saprà darvi delle indicazioni molto più dettagliate del mio. Buona giornata e buona sbarbata a tutti, ciao! Buongiorno amici di L'Apogonotomia, vi rubo solo qualche minuto per indicarvi, per dirvi come poter effettuare il preordine del 7 ADP. Tramite pagamento Paypal con l'importo di 50 euro per l'Italia, sono già comprese le spedizioni, 56 euro per Europa e 66 euro per Extra UK Gran Bretagna. Questo per pagamenti fatti con Paypal presso la mia mail che è donato.ciniello.chiocciolalibero.it che avete visto qua in sovrimpressione. Sulla prenotazione, in pratica dove c'è lo spazio per mettere delle note, indicate, mi raccomando, nome, cognome, indirizzo della spedizione, la vostra mail e numero di telefono. Anche qui con l'importo indicate set per ADP oppure amici della Pogonotomia. Se non riuscite a fare, non potete fare pagamenti Paypal, mandate una mail a info-chiocciola-extrocosmesi.it richiedendo appunto la possibilità di effettuare un pagamento con bonifico e vi daremo l'Iban della bottega. Per qualsiasi altra informazione potete chiamare il numero 011 450 6477. Mi raccomando, non si effettuano prenotazioni tramite telefono. Tutto quello che il preordine in pratica verrà effettuato esclusivamente con Paypal o eventualmente con bonifico. Grazie ancora Luca, grazie ancora Rocco e al grande Marco per l'opportunità. Un abbraccio a presto. Ah, una cosa. Il preordine scadrà, cioè la possibilità di prenotare, tra una settimana dal giorno della visualizzazione di questo video, dalla presentazione di questo video. Grazie. Grazie.